Svegliati, Svegliati, no, non sei morto, per ora, sei paralizzato, temporaneamente. Sei una creatura stupefacente, Spider-Man, io e te non siamo poi così diversi. Io non sono come te, tu sei un assassino. Beh, a ciascuno il suo. Io ho scelto la mia strada, tu hai scelto il cammino dell'eroe e ti ha trovato divertente per un po' la gente di questa città. Ma l'unica cosa che la gente ama più di un eroe è il vedere l'eroe fallire, cadere, morire combattendo. Nonostante tutto quello che hai fatto per loro, alla fine ti odieranno. Perché disturbarsi? Perché è giusto. Ma la dura verità è questa. Ci sono otto milioni di persone in questa città e quelle masse brulicanti esistono al solo scopo di portare i pochi esseri eccezionali sulle loro spalle. Tu e io siamo esseri eccezionali. Potrei schiacciarti come un insetto in questo momento, ma ti sto offrendo una scelta. Unisciti a me. Immagina che cosa potremmo combinare insieme, che cosa potremmo creare. Oppure potremmo distruggere ogni cosa, causare la morte di innumerevoli innocenti battendoci egoisticamente ancora, 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 fino a morire entrambi. È questo che vuoi. Nonostante tutto quello che hai fatto per loro, alla fine ti odieranno. Fuori. Noi, qui sono Sottoneva. Tu e questo vittor Creedarenza isビutata in questo momento. A mella haiЫ Grazie a tutti